Prima invitare alle feste Vabbè io vado solo chi vuole Solo femmine Salve l'unissime venta e mi agitiamo su AdoptMe con Frostinox Primo video se vi piacerà ci faremo una serie Ho visto che è molto ricercato in Italia E boh facciamoci una serie Perché sono così brutto Welcome to AdoptMe Ma si può togliere la musica? Aspetta che devo farne uno bello qua Vediamo Ah perché te ti galbano i bug? No perché praticamente c'era un bug che ti posti mettevi a ballare Continua per camminare ballando Sto andando nell'exit Cosa è l'exit? Oddio sono andato in paradiso Dove sei? Dove sei? Eh sono in paradiso No, sì, il paradiso è così Me l'aspettavo migliore Aspetta voglio in cute Oh ma sono tutti italiani Io offro, io ho una Frappuccino Non me ne frega niente di te Magari poi scopri che sono i nostri fan Eh grazie dell'iscrizione Ma dove sei finita? Ma che è sto robo? Io d'ho comprare sto papi Ma preferisco, preferisco sta solo Becom and... Nooo Cosa è successo? Sono cresciu... Cos'è? Sì che vuoi? Vediamo Cosa ti posso dare io? No niente, non ti do niente Cosa mi dai? Pets o babies? Sì io voglio i pets Dai come fu... Drop bag Do troppo, ok? Feed, toa mania sto sandwich Sì sì mi sa che è finito Sto accudendo un uovo Oddio l'uovo mi dà soldi Mangia ancora No ho finito il cibo Allora ti prendo in braccio Signore voglio sposare quest'uovo Cosa devo fare? Direttamente segnalato il video per zoofilia Ma cosa? Ma perché esiste? Toa mania Feed Oh come si mangia sta pizza? La luce divina Cos'è nato? È nato un cane Ma non mi hanno No no Per vermi non mangi più in tutta la tua vita Ma sei costato un rene Oh oddio Eh ma la posso mangiare la pizza mia? Ah si in forna È vero io l'ho data cruda No povero dai Eh no ma si attacca Tra dieci secondi la pizza si cuoce Pick up Oddio No no drop drop Posta in terra No è la mia la pizza No eccola invece Eh eccola tu è ancora là Posso indossarlo? No sto scherzando Potevo comprare gli dei dei della roba Vai mettiamoci seduti e Gnao Ovviamente la mangio dal collo Perché la bocca è un'opzione per me Aspetta faccio la focaccia io adesso Ok I need shower Hai bisogno del bagnetto Dove lo porta a far bagno? C'è la lingua trapassa la porta Yeah ma Aspetta fatti un'altra doccia Che mi sta a pagare le docce Pk aspetta guarda Dog vai fatti un'altra doccia Come fregare il gioco Cos'è questo? Sì è ma per usarlo? Quanti ricordi Guitare su l'altalena Ma perché se tolchia sto bruciolo Oddio cosa sono? No Sono bellissimo Tu? Frosty Cosa? Come si è diventato? Oddio ma Please Please potion ride for a bee Please Accettiamo Accettiamo Andiamo al suo party Guardami Uiii No hai fatto troppo tardi Ci ho speso una fortuna tesoro Eh ma venga al tuo party Non ti do aiuto mi sono Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant cosa che finessa faccia vabbè ma no questo è svenuto posso tridarlo ma sul serio ma che casa c'è questa perchè c'è due piani io uno cosa sono o due piani c'è pure un baby oddio c'è pure la stanza ricordi lo scantinato che volevo non fare trade anche qua c'è sai cosa ti regalo cosa vuoi che ti rega un passeggino tanto a me non me ne frega niente poverino vai pick up no siamo rimasti incastrati io non voglio più fare la doccia allora vieni qua non vuoi farti la doccia vabbè pick up andiamo ti piglio si apri la porta ragazzi ho ritrovato la mia bambina di prima chissà se anche lei è felice non mi abbandona questa io mi sto il mio cane mi ama guarda che bello il cane salame è questo no si sente male perché ho lasciato c'è dai ma mi tocca pagati pure le cure ma ti ammazzerei guarda ma che ma che schifo ma guarda ma stava in putrefazione sto cane ma che lo porti a fare I'm angry I'm hospital si e 3.000 cose vuoi sai che si fa andiamo ad ammalà tutti quanti di covid ti porto qui al pool party guarda bello il pool party aspetta che siamo in acqua non mi fa perché sto nuotando drop pet vai ti piace il pool party ma ci affoghi madonna che fettore che emana sto cane ma mi sa che è morto il mio cane sai ma possono affogare i pet affogare? eh vuole fare un pool party è schiattato non lo vedo più vabbè guarda andiamo da qui ma che è ma c'è il topo più grande di lei come faccio? no mi sa che è morto nooo non ce l'ho più vorrei teletrasportare fai show baby dimmi che non mi costa eh ah basta che ce lo tengo cioè no scusami eh basta che io tengo il mio cane dentro la scuola e lo impara magari fosse così anche per me che basta che entro dentro la scuola guardo l'armadietto e imparo matematica ok vediamo se mi da ok no niente però qua posso comprarlo l'uovo no non mi da ma l'uovo? lo devi comprare ma non so come si fanno no lui però è all'inizio vieni a invitare alle feste vabbè io vado solo a solo chi vuole solo femmine mi è arrivato un messa declina no ma che cioè mi è arrivato un invito ad un party ragazzi se questo video vi piace lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale attivate la campagna per non perdervi tutti i prossimi video io porto il mio cane a nanna e da game time a frostinox per il momento bye ciao 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 ciao